La nuova ondata di caldo è stata ribattezzata Nerone, questa volta sta infiammando in particolare le regioni del centro-sud. A Termoli si registrano temperature superiori ai 30 gradi e un'umidità vicina all'80%, dati che fanno calcolare un indice di calore, ovvero la temperatura percepita di quasi 40 gradi. Ma secondo il Ministero della Salute, Campobasso, insieme a Perugia e a Brescia, a figurare tra le tre città più roventi d'Italia, una domenica da Bolino Rosso che prepara così le giornate più calde, secondo gli esperti lunedì e martedì, quando l'anticiclone nordafricano raggiungerà il picco. Un'estate ritenuta da chi è ogni giorno alle prese con le previsioni meteo come una delle più calde e stabili degli ultimi anni, che continua a riversare, in particolare durante il fine settimana, migliaia di bagnanti lungo tutto il litorale. Questa la situazione nell'area dell'ex viadotto Foce dell'Angelo di Termoli e queste le presenze in spiaggia per una domenica che ha richiamato turisti anche da fuori regione per la classica giornata mordi e fuggi. Famiglie, gruppi di amici e anziani che sono arrivati dalla mattina per trascorrere godendosi la brezza marina qualche ora di refrigerio, mentre l'acqua giallastra sta gradualmente lasciando la costa e in più tratti è possibile fare il bagno senza disagi. Sotto controllo il quadro della viabilità, traffico sostenuto sul tratto molisano dell'autostrada 14 sui principali collegamenti della regione come la Bifernina, dove le forze dell'ordine hanno potenziato i controlli anche in vista dei rientri dei prossimi giorni. Grazie. Grazie. Grazie.